Cari spettatori del Cinevirus, un film da raccontare ogni giorno, oggi vi parliamo di Vogliamo Vivere. Lo abbiamo scelto anche per il titolo che ci sembra ben augurante. Vogliamo Vivere è stato realizzato nel 1942 da Ernest Lubitsch, un maestro della commedia. Veniva dalla Germania come tanti altri registi e attori e ci sarebbe da raccontare anche la storia di Hollywood attraverso gli apporti che sono arrivati dall'Europa. In effetti il titolo è un altro, To be or not to be, il monologo scespiriano. Perché? Perché siamo nella vigilia che precede l'invasione tedesca della Polonia, Varzavia, una compagnia di attori diretta da Josef Tura, Jack Benny, con la moglie Maria, Carol Lombard. Ebbene accade che quando Josef nella recita arriva al momento del monologo, uno spettatore, bello e tante, si alza invariabilmente dalla poltrona ed esce. E lui comincia a sospettare che vada nel camerino della moglie. Comincia così un filo della commedia che comincia ad avvolgersi su se stesso, si intreccia con un altro di spionaggio, perché nel frattempo i nazisti sono arrivati in Polonia e nel giro vorticoso di scambi, travestimenti, equivoci, Lubitsch dispiega il suo meraviglioso tocco, la capacità di passare da una situazione all'altra e di sorprendere, sorprendere e ironizzare come fa con i nazisti. Ricordiamoci che il film è stato realizzato nel 1942. François Truffaut, che amava Lubitsch, diceva nel Gruviera di Lubitsch, ogni buco è geniale. Vogliamo vivere, 1942, regia di Ernest Lubitsch. Buona Pasqua con il Cinevirus!